Nel merito dell'emendamento di commissione, come ho detto già in vari interventi, abbiamo molto riflettuto sulla proposta che inizialmente era stata formulata in pieno periodo Covid per venire incontro a tutte le attività produttive, per cui la proposta iniziale si proponeva di aiutare non solo la somministrazione classica, ma anche le librerie, come abbiamo detto, e anche l'artigianato alimentare. Anche grazie alla interlocuzione con gli uffici e in alcuni casi anche ai pareri che evidentemente la legge non permette ad alcune categorie come l'artigianato alimentare di avere occupazione di suolo pubblico, abbiamo recepito l'indicazione degli uffici e questo emendamento in particolare va a cancellare tutte le modifiche all'articolo 4 ter. Quindi chiediamo di cancellare la parte del periodo che constava di tre commi presente nella proposta di modifica. Grazie.